E' arrivato il momento di My Generation Safety, la sicurezza come cultura e il tema che trattiamo oggi è il tema importante, quello delle infezioni ospedaliere. Perché? Perché in tema di sicurezza sanitaria parlare di infezioni correlate all'assistenza, note appunto come infezioni ospedaliere nelle terapie intensive neonatali, significa parlare di un tema molto delicato. Al punto che la drammatica vicenda dell'infezione da Citrobacter a Verona, come non almeno citarla, che vede in atto un procedimento giudiziario, noi la lasciamo sullo sfondo. Non interessa qui disquisire quel tema, interessa bensì trattare il tema che ne è al centro. Le infezioni ospedaliere appunto, che affrontiamo con una vostra e una mia amica, la dottoressa Cinzia Auriti, che ritroviamo, l'abbiamo appena sentita in un'altra pubblicazione, ricordiamo essere membro del gruppo di studio di infettivologia neonatale della società italiana di neonatologia, e occuparsi di infettivologia neonatale presso la clinica Santa Famiglia di Roma. Dopo l'intervista daremo come sempre la parola all'avvocato Alberto Franchi e alla sua rubrica a vostra tutela. Ma come sempre, sigla stavolta quella di My Generation Safety. Diamo dunque il benvenuto ai nostri ospiti, vi presentate anche tra di voi la dottoressa Auriti e l'avvocato Franchi, protagonisti dell'odierna pubblicazione. Buonasera a tutti, buonasera, grazie anche dell'opportunità di parlare di queste cose, perché per noi comunque portare all'attenzione i problemi del neonato, come società di neonatologia, è d'obbligo, oltre che un piacere e un dovere professionale. Quindi grazie davvero dell'opportunità. Siamo qua, avvocato noi come sempre, adesso la lasciamo ascoltarci, come faremo anche noi rispetto alla dottoressa Auriti, dopo ci sarà il suo intervento, va bene? Perfetto. A tra poco dunque, dottoressa Auriti, ci siamo, dunque le infezioni ospedaliere, un tema quanto mai abbiamo detto delicato e sensibile. Se parliamo poi di infezioni correlate all'assistenza nelle terapie intensive neonatali, è lecito, ed è la prima domanda, chiedersi quanto sia alto il rischio per quei neonati? Allora, le infezioni ospedaliere sono delle infezioni a genesi multifattoriale, insorgono dopo l'ammissione in un reparto ospedaliero, almeno dopo 48 ore dall'ammissione nel reparto ospedaliero, quindi in questo senso le distinguiamo in ambito neonatale dalle infezioni precoci, che sono quelle invece trasmesse dalla madre al feto e che quindi insorgono più precocemente. Ora, le infezioni ospedaliere nel neonato sono un problema serio perché abbiamo due componenti fondamentali. Uno, la caratteristica biologica del bambino, del neonato, cioè quella dell'immaturità funzionale di organi e sistemi, che è presente nel neonato a termine, ma è presente soprattutto nel neonato pretermine. E poi la necessità, durante il ricovero ospedaliero, di attuare quelle procedure che aiutano il bambino a sopravvivere, che per lui sono indispensabili. La somma di queste due cose rende il neonato un essere particolarmente fragile di fronte all'insorgenza di infezioni correlate all'assistenza. E quindi è un problema serio. In Italia il numero di bambini che nasce al di sotto delle 37 settimane di gestazione è di circa 28.000, 6,9%, quindi 28.000 l'anno. I bambini più suscettibili sono quelli al di sotto dei 1.500 grammi, più o meno rappresentano lo 0,9, 1% dei neonati, quindi parliamo di 4.200, 4.000, 4.200 neonati l'anno. Però sono quei bambini che noi perdiamo magari in un pomeriggio per un'infezione ospedaliera. E questa è una situazione veramente drammatica. Calcoli che la mortalità in un bambino a parità di immaturità, quindi di bassa età gestazionale e di basso peso alla nascita, è da 3 a 5 volte maggiore in un bimbo che contrae l'infezione rispetto al suo pari che non la contrae. Quindi il rischio di decesso è molto alto. E c'è la necessità di attuare queste procedure che per il bambino sono naturalmente indispensabili. Un neonato che nasce a 28 settimane ha un sistema respiratorio incapace di effettuare gli scambi gassosi, quindi non può fare a meno di un supporto ventilatorio molto spesso. Quindi, allora dottoressa, se abbiamo ben capito, detto della particolare vulnerabilità appunto del neonato, l'attacco da parte degli agenti patogeni, lei ha già parlato di procedure invasive come la ventilazione assistita, la nutrizione attraverso cateteri venosi e stava dicendo anche di altri fattori di rischio di infezione. Conviene allora citarli quali sono i più importanti. Parliamo sempre delle terapie intensive neonatali. I fattori di rischio di infezione maggiori quali sono? Quindi dicevo, dal punto di vista delle caratteristiche biologiche del bambino, sicuramente il peso e l'età gestazionale. Cioè i bambini di basso peso e di bassa età gestazionale sono estremamente predisposti a contrarre queste infezioni correlate all'assistenza. Anche perché di converso hanno necessità maggiore di queste procedure invasive. E quindi sono procedure che saltano le barriere di difesa. Per esempio, pensiamo a un catetere vascolare. Il neonato ha già un acute sottile, soprattutto se è molto prematuro. Se noi la interrompiamo introducendo un catetere direttamente nell'albero vascolare, quello che si può determinare è la migrazione di germi attraverso l'ingresso del catetere e quindi l'invasione diretta del torrente vascolare. Quindi il rischio è molto grande. Naturalmente di converso c'è da dire che è proprio sulla modalità di attuazione di queste procedure che noi possiamo agire. Cioè mentre è più difficile correggere i fattori biologici, perché naturalmente è possibile migliorare la capacità ventilatoria oggi con l'uso del surfattante, esogeno, con la profilassi steroidea alle mamme. Siamo riusciti a gestire bene per esempio l'insufficienza respiratoria neonatale. Di converso dobbiamo agire in modo molto deciso e rigoroso su quelle che sono le procedure necessarie a evitare che da esse possa insorgere una causa di decesso. Quindi la rigorosità e anche la preparazione nell'attuare queste procedure sono fondamentali. E nell'ambito della possibilità di riduzione di queste infezioni addirittura ci sono delle stime che parlano di una possibile riduzione del 20% in generale, ma a seconda dei contesti assistenziali la possibilità di riduzione attuando degli interventi rigorosi di prevenzione e sulle modalità appunto di procedura arriverebbero anche al 60-70%. Quindi è un argomento sul quale bisogna lavorare tantissimo, al quale noi siamo particolarmente sensibili. Certo. Sento la dottoressa Auritti, allora, delle pratiche cliniche per prevenire risorgenza di queste problematiche, abbiamo detto, permetta che faccia una domanda forse banale, ma le pratiche di sorveglianza igienico-sanitaria, perché dai detergenti al lavaggio delle mani, alla gestione anche di eventi epidemici, l'uso appropriato anche degli antibiotici, altro tema molto importante. Ecco, leggiamo che qualche volta partono delle problematiche semplicemente per delle pratiche di sorveglianza igienica-sanitaria non messe in atto. Allora, la sorveglianza è il primo passo, cioè per sapere cosa combattere dobbiamo contare. E quindi la sorveglianza è un passo indispensabile a valutare dove dobbiamo intervenire, con quali mezzi e quali sono anche i risultati. Quindi, primo punto, sorveglianza che deve essere fatta all'interno di ogni reparto di terapia intensiva neonatale, con il supporto dell'istituzione, cioè della struttura sanitaria. Della struttura, certo. Cioè, noi medici non possiamo essere lasciati soli su questo problema. Quindi una cosa sulla quale io veramente insisto tanto è questa complicità che ci deve essere tra l'amministrazione dell'azienda e i reparti, soprattutto quelli a maggior rischio di infezione. E la collaborazione strettissima con la direzione sanitaria e col comitato di controllo delle infezioni ospedaliere, che dovrebbe essere presente in tutte le aziende sanitarie. E dopo le dirò qualche dato su un'indagine che abbiamo fatto nelle TIN e in realtà non è neanche così. Ma può dirle adesso se vuole quei dati? Dunque, proprio con il gruppo di studio di infettivologia neonatale abbiamo fatto un'indagine nazionale lo scorso anno sulle 117 terapie intensive italiane proprio per valutare quali erano le procedure che venivano attuate per la prevenzione delle infezioni nei reparti di terapia intensiva e per la gestione degli eventi epidemici. hanno risposto 90 TIN su 117, quindi il 77% delle TIN. Quindi è un'indagine che ha funzionato, un po' faticosa, però insomma ha funzionato. E quello che è, diciamo, di buono uscito, per esempio, è che l'87% dei centri italiani di terapia intensiva neonatale hanno un protocollo di igiene delle mani e questo è importante calcolando che l'igiene delle mani è il primo presidio per la lotta alle infezioni ospedaliere. Quindi che l'87% delle strutture ce l'abbiano ci ha confortato. Di fatto siamo andati a chiedere ma come sono strutturate le stanze, i lavandini? Qual è la modalità di interruzione del getto del lavandino? Ecco, soltanto il 34% dei centri di terapia intensiva neonatale hanno l'interruzione del getto che non richiede l'uso delle mani mentre la restante parte richiede l'uso delle mani. Allora è chiaro che se ci laviamo le mani e poi chiudiamo il rubinetto tutto ciò che abbiamo fatto è inutile. E lì, secondo me, entra l'istituzione cioè la segnalazione da parte del responsabile dell'unità operativa ma l'intervento della direzione sanitaria nel modificare questo tipo di struttura e questo è un esempio di complicità o di collaborazione come vogliamo chiamarla. Poi è venuto fuori che il 67% delle strutture hanno quattro protocolli che si ritengono indispensabili per la prevenzione delle infezioni ospedaliere quindi corretto posizionamento del catetere centrale uso del latte materno nell'unità operativa appunto l'oraggio delle mani uso degli antibiotici però la restante parte no. E abbiamo chiesto quante erano le strutture che coinvolgevano il comitato di controllo delle infezioni nella gestione delle epidemie il 33-34% delle strutture non lo fa cioè non coinvolge il comitato di controllo che è una cosa importante e grave come tre ci hanno comunicato che loro di comitato di controllo delle infezioni ospedaliere nella propria azienda non ne avevano mai sentito parlare quindi anche questa è una cosa che preoccupa e in ultimo il 30% delle strutture non chiude i reparti in corso di epidemia ma il 70% isola i colonizzati e gli infetti quindi c'è come vede una difformità di situazioni sulle quali noi abbiamo fatto questa indagine per poter lavorare su questo punto cioè volendo uniformare l'assistenza nelle terapie intensive perché non è giusto che un neonato abbia un destino diverso a seconda di dove nasce e abbiamo anche lavorato tre anni sulla redazione di una linea guida che attualmente è pubblicata sul sito della SIN e che appunto parla del corretto posizionamento dei cateteri centrali delle polmoniti della prevenzione delle polmoniti da ventilazione del lavaggio delle mani quindi dell'igiene delle mani dell'uso degli antibiotici e quindi della stewardship antibiotica questa linea guida dovrebbe entrare nel sistema linea guida dell'Istituto Superiore di Sanità dove l'abbiamo depositata già da quasi un anno e non abbiamo più avuto notizie cioè sappiamo che ci sono dei problemi e non riusciamo ad andare avanti quindi noi veramente ce la mettiamo tutta ma certo ma certo però sta sottolineando se non stigmatizzando che non c'è uniformità di procedure né di precauzioni d'altra parte sempre secondo la SIN voi stessi auspicate anche comportamenti corretti e competenze ospedaliere multidisciplinari cosa che non tutti ci ha fatto capire la dottoressa Auriti fanno assolutamente e guardi per questo è necessario non solo personale una cosa importante da dire che la maggior parte delle aggregazioni infettive dei cluster si hanno nei periodi di ferie di vacanza cioè nei mesi di agosto di luglio quando il personale è minore cioè è più scarso perché ovviamente sono reparti di emergenza quindi se si scende al di sotto di un certo rapporto infermiere paziente l'emergenza vuol dire la fretta vuol dire che le mani non te le lavi vuol dire che magari mentre disinfetti per mettere il catetere lo fai di fretta non aspetti il minuto che devi aspettare perché si asciughi il disinfettante cioè ci sono una serie di cose che richiedono personale e tempo e addestramento cioè questa formazione non può essere episodica deve essere una formazione permanente del personale uno perché il personale cambia nelle unità di terapia intensiva cioè il burnout è enorme la gente se ne va si trasferisce quindi c'è un ricambio di infermieri soprattutto che sono quelli più sottoposti allo stress assistenziale ma anche di medici piuttosto elevato quindi è necessario che questa formazione sia presente e permanente e poi ci deve essere un numero adeguato di personale perché se scendiamo al di sotto di quella non c'è soluzione non c'è possibilità allora io ringrazio la dottoressa Uriti credo che il materiale che ci ha elencato sia materiale sufficiente per il commento dell'avvocato Franchi allora al quale diamo subito la parola dottoressa Uriti noi ci mettiamo ad ascoltare per poi riapparire la conclusione per i commenti finali sigla allora dedicata intanto all'avvocato Franchi con la dottoressa Uriti è stato affrontato oggi il delicato tema delle infezioni ospedaliere un tema che devo dire la verità anche in ambito giuridico è stato più volte approfondito alla giurisprudenza e di legittimità quindi corte di Cassazione per fare un po' di chiarezza occorre parlare specificare che quando si parla di responsabilità medica in ambito giuridico si fa riferimento a quel tipo di responsabilità che può essere duplice quindi può derivare sia dal rapporto che si instaura tra medico e paziente la cosiddetta responsabilità da contatto sociale che si instaura per il solo fatto che il medico viene appunto in contatto col malato ma può derivare anche dal rapporto che intercorre fra paziente e strutture sanitarie sulla quale come diceva la dottoressa Uriti gravano tutta una serie di obblighi relativi alla complessiva prestazione di assistenza sanitaria del malato il tema delle infezioni ospedaliere attiene a un'obbligazione tipica della struttura ospedaliera che è quella di adottare adeguati sistemi di sicurezza e vigilanza per scongiurare i rischi connessi proprio alle infezioni nosocomiali il ricovero ospedaliero in vista di un diavetto chirurgico rientra nel concetto più ampio di trattamento medico di conseguenza qualora durante il periodo di degenza contragga cosa assai frequente un'infezione magari lunga ed ingiustificata ciò può rappresentare una fonte di responsabilità sia per il medico che ha disposto il ricovero sia per la struttura sanitaria si tratta comunque in ogni caso cioè sia per il medico che per la struttura di una sorta di responsabilità di tipo contrattuale e questo significa che in un ipotetico giudizio il paziente deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia lamentata limitandosi a dimostrare l'inadempimento del medico mentre sarà proprio il medico oppure la struttura sanitaria a dover provare di avere correttamente adempiuto i propri doveri o che il danno patito dal paziente era prevedibile ed inevitabile cosa dice la giurisprudenza di legittimità sotto il profilo del tema prevedibilità ed inevitabilità la giurisprudenza annovera le infezioni nosocomiali fra le complicanze prevedibili ed evitabili poiché trattasi appunto delle conseguenze più comuni di ogni intervento chirurgico la giurisprudenza afferma inoltre che la prova liberatoria in ordine al corretto adempimento deve essere soddisfatta sotto due profili sul piano generale quello relativo all'adozione ai fini della sala guardia delle condizioni igieniche dei locali e della profilassi della strumentazione chirurgica eventualmente adoperata di tutte le cautele come diceva la dottoressa prescritte dalle vigenti normative dalle leggi attuali onde scongiurare l'insorgenza appunto di patologia infettiva carattere batterico sul piano individuale ovviamente quello relativo alla prestazione ad opera del personale medico del necessario e doveroso trattamento terapeutico valutando se sia stata praticata una corretta terapia profilattica pre e post intervento concludo dicendo che nell'ultima una recente sentenza del 2021 della corte di cassazione il tema della responsabilità medica è particolarmente vasto molto discusso in diritto e avremo sicuramente modo di tornare a parlarne in una delle prossime pubblicazioni allora ringraziamo l'avvocato Alberto Franchi e diamo la parola beh abbiamo insieme tutti compreso che giustamente legittimamente l'avvocato ha allargato l'orizzonte alle infezioni ospedaliere ma lasciamo il commento alla nostra ospite la dottoressa Auriti no le parole dell'avvocato mi mi rasserenano perché appunto vedo ehm che eh è prevista la la l'interazione tra il personale medico e l'amministrazione quindi ehm altrimenti non non è possibile eh portare avanti la prevenzione di queste situazioni eh che naturalmente molto dipendono dall'atto medico però eh ci sono anche delle situazioni limite cioè mentre io sono convintissima che il problema della prevenzione delle infezioni ospedaliere si può affrontare e anche eh contenere eh ho qualche dubbio sull'azzeramento perché eh come dicevo prima ci sono dei limiti biologici cioè se noi parliamo di neonati di 28 settimane di età gestazionale il sistema immunitario di questi bambini non è efficiente i globuli bianchi camminano in modo più lento si degranulano in modo parziale eh gli anticorpi hanno una struttura diversa per cui si agganciano peggio all'antigene quindi è molto difficile combattere una eh un'aggressione batterica eh bisogna semplicemente evitare che questo avvenga però bisognerebbe lavorare in una camera sterile eh sempre no? e questo non è possibile quindi l'attenzione e la rigorosità nell'applicazione delle procedure il rispetto dei bundles cioè di tutte quelle pratiche che messe insieme riescono a contenere eh l'insorgenza di un fatto effettivo è mandatoria cioè noi siamo obbligati moralmente e professionalmente a portarli avanti però ci deve essere un aiuto da parte appunto del dell'istituzione ecco che ci dà una mano dal punto di vista non solo della diciamo quantità del personale che deve lavorare nelle terapie intenzioni ma anche della qualità cioè deve essere personale preparato non si possono fare sostituzioni di personale infermieristico da altre parti non preparato ad affrontare un neonato di 800 grammi di peso perché sono appunto persone non in grado di farlo e invece delle volte capita parlavo prima appunto delle situazioni durante i periodi di festa di vacanze di ferie e succede proprio questo delle volte che si ha a disposizione del personale non pronto ad affrontare quelle situazioni quindi sia nel ambito medico soprattutto oggi per esempio c'è da prepararsi tantissimo su nuovi modi di posizionare il catetere centrale mediante le ecografie il che riduce la possibilità di errore i fallimenti il tempo di posizionamento quindi tutte garanzie a vantaggio del neonato che ne esce fuori meglio quindi noi dobbiamo prepararci dobbiamo avere tempo stimoli apparecchiature e abbiamo detto l'appoggio la convivenza della struttura ospedaliera non c'è dubbio a questo punto io credo che anche questa nostra pubblicazione dedicata dottoressa Auriti al tema della prevenzione ma anche della formazione ma della prevenzione soprattutto la nostra campagna è preventiva abbia ottenuto il suo scopo abbiamo detto delle sante verità secondo me per merito della dottoressa Auriti che ha avuto la forza e la franchezza di dirle e abbiamo sentito da parte dell'avvocato Franchi come appunto queste normative sono a favore del paziente che è la cosa più importante le procedure e i protocolli ci sono devono essere applicati ma con quella connivenza e convivenza con la struttura ospedaliera dottoressa Auriti è inutile che io la ringrazio ancora lei sa quanto io la stimi e quanto ancora tenterò di disturbarla ringraziamo insieme anche l'avvocato Franchi grazie mille a presto arrivederci grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti